Uomini e donne, anticipazioni 11 aprile, Armando nei guai e abbandona lo studio. L'appuntamento con uomini e donne torna in onda martedì 11 aprile, come sempre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5. La puntata che aprirà questa nuova settimana di messa in onda del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. Si preannuncia particolarmente densa di sorprese e colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Armando, il quale si ritroverà a fare i conti con una segnalazione riportata in studio dalla dama Aurora. Che lo metterà seriamente nei guai con la padrona di casa del talk show. Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di uomini e donne rivelano che questo lunedì 10 aprile non ci sarà una nuova puntata su Canale 5. In occasione della Pasquetta, il palinsesto della rete Ammiraglia Mediaste verrà completamente modificato e stravolto e tra gli appuntamenti non previsti figura anche quello con il talk show di Maria De Filippi. Tuttavia, le nuove puntate di Uomini e Donne riprenderanno regolarmente da martedì 11 aprile. Quando alle 14.45 ci sarà spazio per un nuovo appuntamento inedito sulla rete Ammiraglia del Biscione. Cosa succederà nel corso di questa nuova puntata di Uomini e Donne? Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende legate ad Armando incarnato. Le anticipazioni di questa nuova puntata dell'11 aprile 2023, infatti, rivelano che Armando finirà al centro delle polemiche. Dopo che Aurora riporterà in studio una segnalazione che rischierà di metterlo in cattiva luce agli occhi di chi organizza la trasmissione, in primis la padrona di casa. Aurora sosterrà di aver scoperto che Armando avrebbe un manager che curerebbe la sua immagine e si occuperebbe di procurargli dei lavori. In questo modo, quindi, Aurora finirà per mettere in dubbio la credibilità del cavaliere napoletano che in questi anni ha sempre svolto il ruolo del giustiziere in trasmissione. Provando a smascherare tutti coloro che raggiravano la trasmissione. Questa volta sarà lui a finire al centro dell'attenzione e delle polemiche in studio. Le anticipazioni sul talk show di Canale 5 rivelano che, dopo essere accusato e attaccato da più persone, Armando deciderà di abbandonare lo studio. Il cavaliere, nel bel mezzo delle riprese abbandonerà la trasmissione e preferirà rifugiarsi nel dietro le quinte dello show. Le parole di Aurora lo hanno ferito oppure in fondo c'è un minimo di verità nella sua segnalazione? Tutto ciò sarà chiarito nel corso delle prossime puntate di questa fortunatissima stagione del talk show. Grazie a tutti! Grazie a tutti!